Musica Bentrovati a tutti i telespettatori italiani così a queste nuizie flash provinciali del 20 ottobre curate dalla nostra redazione Barra Franca e i carabinieri della locale stazione hanno arrestato il 45enne Gianfranco Natalino Puzzo condannato in via di Sinì a tre anni e due mesi di reclusione per il reato di bancarotta a fraudolenta il reato è stato compiuto ad Enna nel febbraio 2007 i carabinieri hanno eseguito l'ordine di esecuzione per rispiazione della pena detentiva emesso dall'ufficio esecuzioni penali del tribunale di Enna Piazza Arminiese è dimesso l'assessore alla salute e viabilità e polizia municipale Filippo San Marco l'ex amministratore faceva parte del gruppo consigliare dell'Udc i tre consiglieri usciranno dalla maggioranza se il sindaco Filippo Mirodi non procederà ad un azzeramento della giunta e da un rimpasto ritenuto necessario dall'Udc senza l'apporto tra tre consiglieri il primo cittadino perderebbe in consiglio la maggioranza Nicosia il giovane autore Alain Calò ha presentato la sua prima opera letteraria presso l'aula magna dell'istituto tecnico Alessandro Volta di Nicosia molte le persone accorse per sentire le parole del relatore e dello scrittore per un'opera del tutto particolare del panorama letterario italiano il libro è un romanzo satirico con personaggi inventati in una città di cui non si conosce il nome ma inseriti in un contesto ben definito ed i scenari sono molto familiari come lo stesso autore ha sottolineato nella sua presentazione il libro si muove su tre livelli di satira tentando di porre in evidenza ciò che non va nel mondo giovanile della politica e della scuola tre mondi nei quali la superbia e il potere fanno da comune denominatore al malcostume che caratterizza da diverso tempo la nostra società Nicosia prima vittoria in campionato per i biancorossi di Mister Burrafato che nella quinta giornata del campionato di prima categoria hanno battuto la Sopranese per 5 a 3 questa la sequenza delle reti al venticinquesimo la Sopranese passa in vantaggio con l'Isacchi pareggia il Nicosia al trentottesimo con Castro Giovanni raddoppia al cinquantasettesimo con Ticello il 3 a 1 viene messo a segno da Bruno al cinquantanomesimo al sessantaduesimo la Sopranese accorcia le distanze con Scelfo al settantesimo Cacciato realizza la quarta rete per i Nicosiani all'ottantanavesimo è Lombardo che realizza il 5 a 2 una punizione realizzata da Lisacchi per la Sopranese porta il punteggio definitivo sul 5 a 3 con questo risultato il Nicosia sale a 4 punti pur rimanendo sempre nei bassi fondi della classifica del girone C Nicosia dura sconfitta per la NAF guidata dal coach Andrea Angilello a Milazzo le Nicosiani hanno perso con un rotondo 3 a 0 nella terza giornata della Coppa di Sicilia contro le ragazze della polisportiva Nino Romano i punteggi di 3-7, 25-22, 25-17, 25-19 fanno luce su un incontro nel quale le Naffine hanno subito la supremazia delle Milazzo che con la vittoria ottenuta oggi hanno raggiunto il primo posto nel girone con 6 punti e serie 7-20 chiude all'ultimo posto la NAF con un punto e due sconfitte e la consapevolezza che il cammino in questo campionato di Serie C sarà lungo e difficile e con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione delle notizie flash curate dalla redazione Telenicosia per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione chiocciola telenicosia.it un saluto da Sergio Leonardi Grazie 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 Grazie